A palmi è tempo di preparativi per le elezioni di primavera e se l'attuale consiglio continua a fare surroghe su surroghe dopo la rinuncia dei cinque consiglieri di opposizione, partiti, associazioni e movimenti sono in agitazione nell'individuare papabili candidati alla poltrona di primo cittadino. In queste settimane si susseguono riunioni su riunioni nel tentativo di capire la strada da seguire. A sinistra, intesa come coalizione di più forze, si pensa di fare le primarie per individuare il papabile, mentre a destra sembra che a volte ritornano perché l'ex sindaco di alleanza nazionale Egno Gaudio ha mostrato l'intenzione di ricandidarsi. Nel PD la candidata data per certa si è ritirata dalla corsa e Mimma Sprizi con un comunicato ha sgombrato tutte le voci messe in giro in questi giorni, ma il civismo impegnato che da anni fa azione nella città ha fatto emergere l'intenzione di dire la sua nelle prossime elezioni di primavera. Si tratta del Circo L'Arminio con il suo coordinatore Giuseppe Ippolito, ma a destare interesse in città è stata la nota stampa dell'avvocato Sprizi, che smentisce nel modo più categorico ogni possibile interesse presente e futuro in tal senso. Non è possibile pensare questo mio impegno si possa tradurre automaticamente in una mia autocandidatura a sindaco, per giunta portata avanti, per come descritta con logiche e metodi non solo vecchi e stanti, ma che costituiscono a mio avviso proprio uno di quei problemi che la mia città deve risolvere per crescere e progredire in futuro. Lo scenario politico del centro-sinistra è ancora confuso a palmi con Giuseppe Ranuccio, ex consigliere comunale che si è dimesso dalla carica, ha annunciato la sua candidatura. Una candidatura che con ogni probabilità e come annunciato dallo stesso sarà supportata da una lista civica. Ranuccio nella sua pagina Facebook ha espresso il suo pensiero, prendendo le distanze dalla vecchia logica utilizzata in tema di candidature. Le accozzaie non ci interessano, ricordando Renzi in questo caso. Vincere a tutti i costi non è il nostro obiettivo, si deve vincere sì, ma per cambiare aria e governare bene. Il nostro sogno è rivoluzionare la città, per farlo è necessario quindi che la squadra sia fatta di persone per bene. Ragazzi e ragazzi sostiene Ranuccio competenti e volonterosi, gente selezionata, nuova e soprattutto onesta. Non accogliamo chiunque, la politica è fatta delle persone e se queste non sono affidabili i risultati non possono che essere, come sempre, fallimentari.